E' la prima struttura pubblica che si realizza dopo il sisma che ha abbracciato quattro legioni. Una comunità ferita per via del terremoto e del maltempo, ma che con dignità e orgoglio non si lascia abbattere. E a volte i miracoli accadono, come è successo a Nerito di Crognaleto, dove è arrivata quella che il sindaco ha definito una vera e propria mana dal cielo, con la realizzazione di una nuova scuola vista l'inagibilità della propria, donata da Ikea, che tempo permettendo sarà realizzata in poche settimane. In tempo dunque per far completare l'anno scolastico in corso ai ragazzi di Crognaleto, già così duramente colpiti dal susseguirsi di calamità, in una struttura nuova, moderna, sicura e tanto desiderata da tutti. Oggi posiamo la prima pietra di una struttura importante. La scuola è una cerniera che garantisce la vivibilità di un territorio. Io ho avuto due plessi scolastici danneggiati in tipologia E, quindi una ricostruzione completa. Con la filiera del sisma, il progetto Errani, ricostruiremo Tottea a settembre, ma la vera vittoria è quella che già a fine mese di maggio riusciamo ad avere una scuola nuova. Il donatore Ikea è stata una manna venuta dal cielo che ci dà un sospiro forte, non solo al sindaco, non solo all'amministrazione, ma soprattutto ai bambini, che sono la filiera istituzionale vera. Infatti si ricomincia proprio dai più piccoli. I bambini e gli studenti sono contenti, anche perché avranno una struttura davvero innovativa. Sono impazienti, vogliono vedere la struttura, anche perché Ikea propone delle cose nuove, propone un'attività vista magari in altri territori. In Svezia vengono da altri paesi, quindi colori nuovi, ambienti nuovi, spazi nuovi, ma soprattutto la sicurezza. Parliamo di una scuola in categoria 4, quindi quella è ciò che serve oggi all'attività scolastica. Una scuola nuova, entro maggio, è una prospettiva che intanto consente di affrontare anche qualche piccola sofferenza che è ancora in corso e poi soprattutto di progettare un futuro anche scolastico, molto più sereno e secondo me produttivo, perché i bambini, i ragazzi e i docenti sono già nella prospettiva di sfruttare questa scuola al massimo delle sue potenzialità, perché sarà una scuola accogliente, bella, con spazi arredati su misura per loro e quindi da utilizzare quanto più possibile anche al pomeriggio per ogni attività che renda questi luoghi, che sono luoghi difficili, luoghi in cui si può vivere bene. La scuola è fondamentale per questo. Come hanno affrontato i ragazzi queste situazioni così difficili che si sono susseguite nel tempo? I ragazzi sono bravissimi, hanno una capacità di adattamento incredibile, sono stati supportati da docenti che ce l'hanno messa tutta e anche dalla disponibilità di personale specializzato, anche di psicologi. È chiaro che è stato da principio per loro difficile, è stato difficile ed erano molto attenti agli spazi che avevano a disposizione, se potevano essere spazi sicuri, se potevano contare su modalità certe per l'eventuale evacuazione. Sono diventati veramente sulla sicurezza molto sensibili e molto attenti. Questo fa parte della crescita. È stato un tempo duro, però sicuramente ci ha dato anche occasione per fare riflessioni e per cambiare le nostre abitudini, i nostri comportamenti in meglio. È un'occasione anche questa di crescita. L'obiettivo è di costruire questa scuola in 40 giorni, dunque di essere pronti entro fine maggio, con un progetto veramente molto bello, caratteristico, che porti anche un po' di svedesità all'interno del contesto del paese. Come mai Ikea ha deciso di aiutare questo piccolo borgo montano terramano? Normalmente noi da anni ci occupiamo del territorio, soprattutto il territorio in cui siamo inseriti con i nostri negozi e Cronioletto ci sembrava il territorio corretto per dare questo tipo di spiegazione. Chiaramente la sicurezza innanzitutto, soprattutto in questo territorio? Assolutamente, è una scuola che risponde a tutte le caratteristiche che servono per il territorio e soprattutto che deve rimanere nel corso degli anni, non qualcosa di provvisorio. Un dono che la popolazione di Cronioletto deve non soltanto all'azienda ma anche ai lavoratori stessi? Esatto, è stato un pensiero a cavallo di Natale dove i nostri 7.000 dipendenti hanno pensato di devolvere il loro regalo di Natale alla popolazione di Cronioletto, dunque penso sia sicuramente un bellissimo gesto a parte di 7.000 colleghi che ci sono all'interno del mondo Ikea. E con un gesto simbolico come è stata la piantumazione di una ginestra nell'area che ospiterà il giardino della nuova scuola, si è dato il via ai lavori che dovranno correre veloci se si vorrà rispettare la data di inaugurazione già fissata per il prossimo 29 maggio. Una promessa, una speranza. Un anno scolastico quindi il prossimo che comincerà decisamente in un'altra maniera. Magari i ragazzi saranno anche contenti di tornare a scuola, no? Io penso che saranno contenti e forse saranno un po' scontenti di chiudere troppo presto la scuola, le attività in una scuola così bella perché c'è stato tutto l'impegno anche da parte dell'amministrazione oltre che del donatore Ikea che noi ringraziamo, c'è stato tutto l'impegno ad aprire questa scuola prima del termine delle lezioni perché è un messaggio importante di ripresa immediata. C'era bisogno anche se per soltanto un paio di settimane cominciare a stare in una scuola e finire l'anno lì. Io devo dire che il mio territorio sta reagendo in maniera eccezionale. Abbiamo riaperto il paese di Crognaleto che era stato evacuato a seguito dei crolli dei massi, abbiamo sistemato il ponte di Aprati che insomma era una problematica che isolava un versante, 700 anime isolate, insomma adesso mettiamo su l'ufficio Sisma che in concomitanza con l'ufficio speciale di Teramo inizieremo già dalla prossima settimana a lavorare le progettazioni della ricostruzione. Abitanti di Crognaleto che sono stati anche per un periodo evacuati, spostati lungo la costa, come si fanno tornare nelle loro case? Ma intanto con un contatto diretto. La forza di chi parla è la continuità giornaliera di quella che è la preoccupazione che vive il sindaco e vive il cittadino. Grazie a questi due elementi, a questo elemento forte, a questo contatto, siamo riusciti a portarli di nuovo tutti a casa. Ovviamente qualcuno ha la casa inagibile, sta vivendo con il CAS, ma rimangono nel territorio. Questo è l'elemento forte di chi vive in montagna, la voglia, la caparbietà di rimanere nel territorio. L'Abruzzo, lo diciamo sempre, è forte e gentile.